Tuffarsi in una piscina nel mezzo del deserto californiano senza spendere soldi da oggi si può. La difficoltà più grande è riuscire a trovarla. Le persone che vorranno immergersi in questo piccolo ma suggestivo specchio d'acqua infatti dovranno richiedere le chiavi per aprirla e le coordinate GPS per raggiungerla al Center for Heart and Architecture che si trova a West Hollywood. C'è tempo fino al 30 settembre per individuarla, dopodiché sarà soltanto un miraggio. L'idea di questa social pool è venuta all'artista austriaco Alfred Barzulli, autore di questa strana e originale installazione nelle sabbie desertiche californiane del Mojave.